Ben trovati, ogni qualvolta si fa una valutazione, una riflessione, un'analisi che vede come oggetto l'attività della politica e quindi anche la critica verso chi ci rappresenta nelle istituzioni, quindi nel Parlamento, nei consigli regionali o nei consigli comunali, si rischia di essere etichettati come i portabandiera dell'antipolitica. No, cari onorevoli, senatori, consiglieri regionali, sindaci, non rappresentiamo noi l'antipolitica nel momento in cui allertiamo che qualcosa potrebbe avvenire a svantaggio dei territori, siete voi l'antipolitica incapaci di leggere tra le righe ciò che potrebbe succedere di negativo verso le vostre popolazioni, alle quali voi appartenete, perché oggi siete onorevoli e senatori, domani potreste essere dei semplici cittadini, sempre della casta per carità, ma comunque non più con la seggiola calda e bella e comoda del Parlamento italiano. Dove voglio arrivare? Ricorderete due o tre anni fa io polemizzai aspramente con quei parlamentari di tutti i partiti politici che andarono alla corte dell'ANAS per rivendicare la necessità di avere la 275. Da vent'anni abbiamo 280 milioni e da vent'anni dibattiamo su chi deve cantierizzare questa benedetta infrastruttura. Poi mi fu detto tante polemiche hai fatto, hai chiesto di occupare la stanza del Presidente dell'ANAS e noi usciamo con un documento in cui Ciucci, non loro, anche loro, ma l'ex amministratore delegato di ANAS, ha assicurato che da qui a qualche mese si avvieranno i lavori per la nuova strada. E io dissi attenzione, non sarà così, così non è stato. Ad oggi la notizia che viene proprio dal Partito Democratico, il Partito di Governo, uno dei partiti insieme al centrodestra, al Movimento 5 Stelle che si recò da Ciucci, proprio dal PD ritorna un allarme. La 275 potrebbe non farsi mai. E allora cosa fanno? Bene, cominceranno a mandare i comunicati in stampa. Noi non ne passeremo alcuno, perché sono inutili, perché è l'ulteriore fallimento della vostra volontà di rappresentare gli interessi del popolo. Se è vero che il nuovo Presidente ANAS ritiene inutile questa infrastruttura che collegherebbe Santa Maria di Leuca con il resto d'Europa, non con Maglie, con Lecce, con la Puglia, con il resto d'Europa, se questo dovesse essere vero dovreste veramente, il Salento si dovrebbe realmente andare a incatenare nella strada in cui c'è sede l'ANAS a Roma e i signori parlamentari sedere sulla scrivania dell'attuale Presidente ANAS con la imposizione di concerto con questo governo per l'avvio reale e non la minaccia di blocco della 275. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma quanto si ascolta da Roma non dovrebbe far star sereni né i cittadini, né i politici, né tutti coloro che amano questo territorio. E dovremmo ricordare Alderrio che qualche settimana fa confermò il tutto, che probabilmente qualcuno vuole seguire le indicazioni dell'autorità antiriciclaggio di questo Paese perché Cantone, il magistrato voluto da Renzi, lanciò un primo stop alla 275. Non vorrei che la politica seguisse semplicemente l'input dell'ANAC. A domani.